andiamo a vedere proprio la chiamata per inserire un nuovo post allora per il momento ignoriamo gli error, i catch error nel caso in cui l'API non funzioni però adesso vedremo proprio quando andiamo a inserire un post che succederà qualcosa, adesso lo vedremo assieme per inserire un nuovo post dobbiamo usare questa funzione questa petta questa petta, questa API no? check audio, mi sentite bene? scrivetelo pure in chat se ci sono problemi ok, per fare l'inserimento quindi bisogna chiamare in post questa API e questo è lo schema quindi come vi ho già detto solitamente io creo un servizio che è la diciamo la copia di quello che mi viene fornito da Swogger quindi in article service trovo tutto quello che c'è dentro articles ovviamente non andremo a implementare tutte quante le API ma andremo a crearne qualcuna soprattutto quelle che ci possono risultare più interessanti allora per creare l'articolo dobbiamo creare una nuova funzione post new article ovviamente abbiamo un body adesso lo vedremo di tipizzarlo e ovviamente avremo una risposta in questo momento mettiamo any e andiamo a vedere poi gli schema definition ok, che sono come vi facevo vedere l'altra volta qui allora il body diciamo che questo è il contenitore qui abbiamo new article dto quindi qui dobbiamo fare new article article dto ovviamente non esiste dobbiamo andarlo a creare quindi in article models preferisco metterlo qui andiamo io ho già il visual studio code con l'API vi ricordate che l'abbiamo generata l'altra volta quindi vado a cercare new article eccolo qui questo è il new article e questo è l'envelop eccolo qua li mettiamo qui solo per comodità in realtà io di solito spezzo i file singolarmente ok, quindi creo tanti file ognuna per l'interfaccia ma magari in questo caso queste le metterei nello stesso file però per semplicità nostra in questo momento li mettiamo qui anche perché l'applicazione è piccola quindi non ha necessità di questa strutturazione quindi abbiamo i nostri nuovi dto e qui lo andiamo a importare dopodiché andiamo a vedere che cosa ci ritorna nella response andiamo a vedere lo schema ci dà un article response article envelope article response ora qui ci facciamo dare direttamente l'article response perché l'imbustamento non ci interessa granché quindi facciamo in modo che questo servizio ci ritorni direttamente article response senza l'envelop ovviamente dobbiamo andare a implementare a definire l'interfaccia allora uno è article response envelope eccolo qui perfetto e l'altro è article response è questo? no, non è questo è questo eccolo qua e quindi abbiamo i nostri due modelli sempre come interfaccia perché come vi ho già spiegato l'interfaccia è un contratto non modifica i dati mentre Zod ad esempio poteva fare un controllo sintattico dell'interfaccia che veniva ritornata dalla chiamata HTTP quindi qui andiamo a importare article model e ci importa article response quindi qui dobbiamo fare la post come abbiamo visto nel vediamo se lo trovo in user service per fare la post la HTTP client ci permette di far la post in questo modo quindi col metodo punto post che è un generico e quindi possiamo dirgli qual è la risposta di questo post ora in questo caso faremo return vis punto HTTP client punto post di che cosa? questo ritorna article response article envelope quindi la risposta di questo sarà questa interfaccia ora se facciamo così ovviamente ci dà errore perché? perché il primo parametro è l'url e il secondo se vi ricordate il post il primo parametro è l'url il secondo è il body quindi andiamo a metterci l'url che è questo se notate c'è sia in post sia in get la differenza lo fa il verbo HTTP come vedete qui è fatto molto bene perché c'è il post il get il put delete ok? sono tutti quanti i verbi HTTP il secondo parametro è proprio il corpo ora il corpo di questa post lui vuole però new article dto article envelope ora se io qui ci passo il body ovviamente continua a darmi un errore eh no scusate se mi passo il body ovviamente mi dà un errore perché a me serve il new article dto article envelope quindi post envelope due punti new article dto envelope uguale come vedete tendo sempre a tipizzare le variabili per i motivi che ci siamo già detti quindi article due punti body e questo sarà quello che passeremo al nostro post ovviamente lui ci dice guarda che però l'observable di article response article envelope non è assegnabile a un observable di article response ok chiaro no? perché perché ovviamente la risposta di questo tipo non può essere di questo quindi che facciamo per semplificare la vita poi quando andremo a implementare questa post faremo una pipe e faremo una trasformazione come abbiamo già visto nella lezione di rxjs facciamo una map quindi response che sarà quello che ci arriva dalla chiamata è http e qui ritorneremo response punto article ora qui ci dice che può essere o article response undefined perché perché in questa chiamata response quando abbiamo fatto il mapping con l'interfaccia ci mette il punto di domanda ma noi siamo sicuri che ci sarà sempre altrimenti va in errore quindi possiamo ottenere tranquillamente il punto di domanda e a questo punto il problema si risolve quindi abbiamo creato la nostra post ora dobbiamo andare a creare il nostro new post la pagina se vi ricordate ce l'avevamo già perché il nostro ktmlista l'aveva già creata per noi ed era questa se non ricordo male vediamo un po' how to build no non è questa l'editor scusate è questa questa era la pagina ora nel servizio quello che abbiamo creato perché ancora non conosciamo come facciamo il routing all'interno di angular abbiamo fatto questo scamotage per far vedere o non far vedere i determinati componenti quindi qui facciamo un pipe new post quindi avremo un nuovo link quindi che facciamo intanto facciamo sign in se vi ricordate abbiamo creato l'utente f.f chiocciola f.it la password era demo demo 1 se andiamo a fare sign in eccolo qui qui abbiamo il new post ora nell'edit nel header che facciamo andiamo eccolo qui andiamo nel new post qui ci facciamo un bel click e a questo punto facciamo di solito andavamo a creare una funzione in realtà navigation service è visto anche nell'html quindi posso fare navigationservice .page2view.set se vi ricordate page view era un write table signal ok e qui possiamo metterci new post andiamo a provare a vedere se funziona se adesso faccio new post salta fuori pagina bianca perché perché se vi ricordate in questo meccanismo un po' fraragginoso in realtà ma vedremo migliorandolo con il routing qui mettiamo case new post vedete è tutto tipizzato quindi l'intelligence riesce a dirmi anche che cosa manca negli eventuali case a questo punto dobbiamo metterci app editor andiamo a vedere se è vero new post ed entriamo finalmente nell'app editor ovviamente quando faccio refresh questo è un metodo un po' casareccio per poter creare la navigation ovviamente perdo perdo praticamente le informazioni di dove sono di dove l'utente è quindi ogni volta che faccio refresh ricomincia da capo per fortuna non perde la login siamo nel new post quindi abbiamo il titolo il body e i tag andiamo a prendere la pagina editor e ovviamente che facciamo andiamo a creare ovviamente un altro reactive form allora andiamo a creare andiamo a creare il nostro form quindi creiamo un bel il costrattor ci facciamo iniettare il form builder form builder e qui andiamo a creare il nostro bel form quindi form grp e punti form group ovviamente ci dà l'errore perché non è inizializzato lo inizializziamo nel costruttore quindi vis punto form grp uguale fb punto non un label punto group e qui andiamo a finire i campi ora i campi che andremo a definire qui sono come quelli del modello che vogliamo passargli quindi nel new article dto abbiamo il title quindi possiamo prenderci queste proprietà metterle qui e quindi qui dirgli questo è una stringa virgola di tipo required il description lo stesso magari se qui metto una virgola potrebbe anche funzionare qui idem validators required virgola il body lo stesso facciamo così facciamolo prima e questo sarebbe un form array come faccio a form array qui togliamo via i punti di domanda come faccio a fare il form array con il form builder semplicissimo facciamo fb punto array di quadra a quadra al momento i tag list li lasciamo perdere ok ci accontentiamo intanto magari si mette anche un punto e virgola ci accontentiamo intanto di avere queste informazioni ora abbiamo il title description body tag list andiamo nel nostro html ovviamente qui form group è uguale frm form grp e qui ovviamente mi dice guarda non conosce l'attributo form group perché essendo in stand alone dobbiamo importare i reactive modules anche qui reactive forms module eccolo qua a questo punto l'errore scompare andiamo a mettere il form control name sui vari sui vari input quindi qui magari vediamo di ecco quindi lo mettiamo qua magari così lo vediamo prima form control name è uguale a che cosa il primo è il titolo quindi a title il secondo che è un text area lo mettiamo a facciamo body in realtà adesso che guardo mi rendo conto che nel new post manca la description poco male andiamo a crearla ecco qui la incolliamo quindi questo qui avrà il nome description allora il titolo era il titolo del form description title è il titolo description sarebbe la descrizione breve il body è proprio il corpo dell'intero form dell'intero post ecco togliamovi anche il faccione così riusciamo a vedere completamente tutto quindi abbiamo il description abbiamo qui la test area abbiamo già messo form control name e qui per il momento lasciamo perdere i tags ok non andiamo a farli per il momento ok quindi qui abbiamo il title magari su description sul placeholder mettiamo post description quindi new post abbiamo post title post description eccetera questo è il pulsante di submit quindi type uguale submit e dopo nel form facciamo come nostro consueto ng submit on create new post andiamo a dichiarare il metodo ovviamente mi danno errore perché l'ha creato ma non l'ho salvato come mio consueto lo metto sotto il constructor formattiamo un attimo ok quindi qui andremo a creare il nostro il nostro post ovviamente nel bottone qui di creazione che facciamo lo disabilitiamo nel caso il form non sia valido quindi mettiamolo orientato disabled uguale formgroup punto disabled invalid scusate invalid quindi se il form non è valido il pulsante disabilitato stiamo lasciando da parte per il momento diciamo la validazione dei campi l'abbiamo già fatto in un'altra lezione quindi in questo momento non metto gli error sui vari campi ci accontentiamo di avere la validazione soltanto del post allora sul componente qui dobbiamo intanto iniettare article service quindi article services uguale inject article service e quindi qui abbiamo tramite la dependence injection article service a questo punto quando l'utente premerà il pulsante di invio andremo a fare l'invocazione della post vera e propria quindi this article service post new article e qui vuole il new article dto quindi il mio di consueto cost new article due punti article dto è uguale e qui ci mettiamo le varie property magari non ho article dto perché vuole new article dto quindi è new article dto quindi la prima property è il body intanto mettiamo così la seconda property description la terza property è il tag list qui magari mettiamo il disiquadra quadra e il title ok abbiamo definito il dto adesso lo andiamo a riempire e qui facciamo new article punto subscribe e qui abbiamo la nostra res console punto log res res magari red no res ok andiamo a riempirlo e qui cosa possiamo fare o andiamo a prendere da form group oppure ci facciamo dare il file il value quindi value e forma uguale vis uguale a vis punto formgrp punto value se vi ricordate il value non è tipizzato quindi ci da un value any non ci dice però qui abbiamo che cosa abbiamo un any quindi in realtà noi sappiamo che abbiamo mappato le property come se fosse new article il dto e quindi che possiamo fare e possiamo o prendere anzi lo facciamo proprio facciamo così punto 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 value e forma ovviamente potevamo evitare di creare questa nuova variabile e quindi voilà addirittura potevamo evitare di crearci anche questa variabile passare direttamente il form group qui value ora perché non lo faccio semplice perché magari se voglio andare a vedere se ci sono magari degli errori nel form group o negli errori di validazione in questo modo posso andare a controllare cose effettivamente vado a creare andiamo a salvare e andiamo a provare a fare la nostra post andiamo a aprire il nostro feed o console questo possiamo chiuderlo quindi sono già logato new post qui mettiamoci dei valori i text per il momento non mi interessano andiamo a fare la create post e qui mi da un errore perché mi da un errore se andiamo a vedere la response mi da un 401 il 401 è un authorized quindi per fare un nuovo post l'utente deve essere autorizzato come facciamo allora ve lo dico io qui non è specificato se andiamo a vedere lo swagger non è indicato come passargli il token però questo progetto è fatto che quando l'utente si collega viene passato quando l'utente viene creato viene creato assieme ad esso un token e con quel token è un token di autorizzazione permanente quindi l'utente che si collega ha sempre lo stesso token e con quel token può fare le chiamate autenticate quindi bisogna passare il token nel leader qui se andiamo a vedere il leader non c'è niente dei token bisogna aggiungerci il token nella post come facciamo andiamo a vedere in particolare proprio il servizio e vi faccio vedere intanto il primo modo per passare il token allora come si fa nei parametri della post e anche della get se vedete c'è url che è una string il body che è any e poi abbiamo degli options negli options possiamo passare leaders andremo a usare proprio questo metodo in questo momento poi andremo a vedere invece come poterlo fare in altre con altri modi molto più molto più carini allora andiamo a crearci una variabile che chiameremo leader di tipo è uguale no di tipo è uguale a new http leaders perché a noi interessa in questo momento leaders quindi creiamo questa variabile e la stanziamo in questa classe che è leader leaders ha la possibilità di aggiungere o di togliere eventuali elementi di leader quindi facciamo leader punto set aperta tonda il primo parametro è il nome del leader in questo caso noi serve authorization il secondo parametro è il value quindi è token più il token dell'utente autenticato se vi ricordate nel user service quando l'utente si logga salvavamo in questa variabile il token che veniva poi persistita all'interno del local storage eccolo qui quindi dobbiamo iniettare il servizio users private user service uguale a inject user service e quindi a questo punto token più vis punto user service punto token ovviamente potremmo farle con una string interpolation che salta fuori anche un pelino meglio eccolo qui quindi questo pezzo lo mettiamo qua dentro perfetto e quindi ho cancellato troppo ok quindi questi header dobbiamo passarlo come terzo parametro della nostra post come lo passiamo molto semplice aperta graffa header magari se lo chiamo alla stessa maniera headers headers ok lo passiamo qui perché così sarebbe uguale a dire headers quindi se qui lo chiamo header qui mettevo headers due punti header ma è molto più conciso chiamarlo con lo stesso nome della property di questi options lì andiamo a provare a fare l'inserimento quindi new post mettiamo la data di oggi title 24 04 2024 descrizione title è descrizione del diciamo così 24 04 2024 magari anche qui 2024 corpo descrizione 24 04 2024 ora se notate io cerco di dare un nome della property per verificare che effettivamente che effettivamente sia effettivamente il campo che poi si aspetta il back end e questa è una cosa mia proprio per verificare che effettivamente quello che viene passato in posto sia corretto andiamo a provare a farla create ancora mi da articles unauthorized andiamo a vedere cosa passiamo a questo punto se riesco a espandere cosa passiamo nei vari header andiamo a vedere effettivamente non passa non passa l'authentication che cosa abbiamo sbagliato questo è il new article questo è il envelope questo è headers ah giusto qui ecco qui l'errore quando facciamo l'asset lui ci ritorna l'http header quindi dobbiamo fare headers uguale headers punto set adesso andiamo a riprovare che mi ha dato new post titolo e facciamo di nuovo 24 04 2024 copiamoci questo descrizione e corpo corpo facciamo la create e voilà l'articolo è stato creato andata in 200 quindi il back end ha ricevuto correttamente la post nella response ci da il nostro articolo appena creato come vedete title è giusto description è giusto e corpo è giusto poi questi altri valori li mette praticamente il back end ok